sono molto contento per il risultato raggiunto io credo che ovviamente non si possa festeggiare già adesso perché 1000 iscritti è un piccolo traguardo però ovviamente un canale che vuole essere un un punto di ritrovo di cultura di istruzione di formazione a deve avere delle caratteristiche quali ovviamente un minimo la caratteristica di essere eseguito minimo cioè qui su youtube ci sono tanti canali tanti video a volte anche buffi su chi mangia una pizza la pizza per tutta una settimana piuttosto che bere il caffè dieci volte al giorno piuttosto che mangiarsi un pollo intero davanti a tutti e questi video arrivano a migliaia decine di migliaia centinaia di migliaia di visualizzazioni e altrettanti pollici in su e condivisioni iscrizioni al canale ovviamente se tutti insieme vogliamo far sì che questo canale di cultura e di istruzione possa emergere probabilmente ognuno di noi potrà dare il proprio contributo condividendolo cercando di commentare di migliorare questa realtà affinché si possa piano piano raggiungere livelli sempre più alti io chiedo a voi questo aiuto e vi chiedo scusa per le telefonate che mi arrivano provo a mettere silenzioso ma non ci riesco ok come mio solito non non cancello nulla di quello che accade perché tutti i video sono in diretta e mi piace insomma che ci sia questa peculiarità vi auguro un caro saluto e alla prossima ciao 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 ciao